bentornati amici a non solo calcio terza puntata di non solo calcio con un ospite di eccezione pino imperatore ciao pino buonasera ci siamo già salutati allora parliamo subito di questo tuo ultimo l'ultimo nato così si dice giusto che ti sta dando grandissime a quante ristampe siamo già due ristampe il libro sta andando molto bene un romanzo pubblicato con mondatori pochi mesi fa il titolo lo dite voi l'ho annunciato in pompa magna lo dico io già si vede insomma nella grafica però lo annunci tu perché allora è bellissimo come alla san gennaro e i tre kamikaze dunque ipotizzato no infatti io gli incontri pubblici che faccio anche televisivi non entro mai troppo nei particolari altrimenti ruberei la sorpresa ai lettori ho ipotizzato il possibile arrivo a napoli di tre giovani kamikaze aspiranti kamikaze che vorrebbero realizzare qui in città degli attentati restano a napoli un mese il mese è quello di settembre non a caso c'è san gennaro che coincida con il mese di settembre e entrano in contatto quindi non solo con la realtà napoletana dal punto di vista urbanistico architettonico ma anche soprattutto all'umanità di napoli secondo voi riusciranno a fare i loro attentati perché si innamorano di napoli anche 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 succede anche questo io non posso rispondere perché l'ho letto sei fuori del giorno secondo giorno che è uscito e lo si legge è un libro piacevolissimo e si legge tutto di un fiato io l'ho letto in tre giorni ho letto in tre giorni è davvero un libro piacevole godibile complimenti a pino ma non c'è bisogno che te li faccio io infatti io avrei una domanda da da fare a pino se l'umorismo e l'ironia napoletana possono contrastare il fanatismo e l'odio che diciamo ho sentito forte in questo libro ecco come diciamo traccia unica del tuo racconto è possibile io penso e spero di sì è studiato si vede proprio penso e spero di sì ovviamente nessuno di noi si deve mai augurare che napoli entri nell'obiettivo del terrorismo internazionale quello di matrice jihadista ma anche nessuna città del mondo assolutamente ma se malauguratamente facciamo corning dovesse accadere una cosa del genere io spero che accadano le cose che ho raccontato nel mio libro perché napoli con la sua forza la sua creatività la sua sana invadenza così lo definisco riesce ad arginare qualsiasi tentativo di violenza nei suoi confronti e a trasformare l'odio in amore questa è la mia anche la genialità dei napoletani perché nel libro si respira anche la genialità dei napoletani sì dalle cose più semplici a quelle un po più complicate perché sappiamo bene che a napoli una città piena di tante contraddizioni è tutto il contrario di tutto una città meravigliosa straordinaria io sono orgoglioso di essere napoletano e di vivere qui e di difenderla sempre la mia città anche di parlare dei suoi problemi perché non dobbiamo nascondere i problemi non metterli sotto il tappeto ma dobbiamo raccontarli affrontarli per risolverli ma questa creatività serve proprio a a travolgere qualsiasi intenzione molesta e negativa però se io ricordo bene Pino Imperatore è napoletano ma è un napoletano adottivo perché Pino Imperatore nasce a Milano io sono nato a Milano da genitori napoletani da genitori napoletani che come tanti meridionali andarono alla fine degli anni 50 a Milano per motivi di lavoro per trovare un lavoro a Milano ci sono rimasto solo un anno e mezzo perché mio padre fece il tempo di conoscere un po' la città io volevo farti una domanda poi insomma mi ha anticipato Salvatore per la prima volta ecco tu hai usato non parli delle cose insomma dell'esparatore di quello che succede a Napoli ma i kamikaze che vogliono attentare può essere questo fatto che magari hai vissuto prima a Milano perché di solito il napoletano inizia con Gomorra si parla male, delinquenza, mafia, invece tu hai ipotizzato che i kamikaze e non il napoletano può essere un po' questo? Sì, in precedenti miei romanzi ho raccontato anche la criminalità organizzata con la saga degli esposito, benvenuti in casa esposito e bentornati in casa esposito ma in ogni caso c'è sempre la città sullo sfondo, lo scenario napoletano partenopeo c'è sempre nei mie libri e trapena nei miei libri tutto il mio grande amore per Napoli e per la città Benvenuti in casa esposito che poi è diventato anche uno spettacolo teatrale uno spettacolo teatrale scritto a quattro mani proprio prendendo spunto dal libro da Alessandro Siani e Paolo Cagliazzo, un grandissimo successo nei teatri di tutta Italia e anche in benvenuti in casa esposito tu hai detto io parlo della criminalità ma in maniera tragicomica cioè nel senso tu vai a dipingere, anche li ho letti tutti e due, anche quelli vai a dipingere in maniera umoristica, in maniera grottesca le vicissitudini di questa famiglia esposito che poi sono criminali ma criminali da strapazzo se vogliamo molto da strapazzo, cerco di far capire tra l'altro il mio libro ha avuto una grandissima diffusione anche nelle scuole e continuamente io giro per le scuole ma dalle elementari, medie, superiori, ragazzi dell'università quindi ha anche uno scopo didattico importante cerco di far capire con i miei libri che il male, nel caso specifico la criminalità non portano da nessuna parte, cioè portano soltanto la morte, la distruzione è meglio invece vivere una vita allegra, felice, aperta, serena anche con tutti i problemi che l'esistenza ci riserva però affrontarlo è importante, e leggere tantissimo la cultura con la C maiuscola è fondamentale, è importante per crescere riesci anche ad accettare le differenze perché la mente si apre e non c'è chiusura ed è importante ma per uno scrittore, ecco noi, io faccio parte del mondo, diciamo, dello spettacolo ah sì? è così dico ah sei famoso, ti fermano anche a te è modesto, ma è bravo, è bravissimo a me mi chiede una cosa di speech dicevo quanto è difficile farsi largo nel mondo della scrittura? è lo stesso problema che hanno un po' tutti gli artisti anche per il tuo caso, per lo spettacolo, per il cinema, la televisione io credo però, e lo dico sempre ai ragazzi del mio laboratorio di scrittura che tengo qui a Napoli crediteci, perché se avete questa passione e fate dei sacrifici, studiate, sperimentate approfondite la conoscenza sulle tecniche e a quello associato il vostro talento prima o poi una strada la troverete ecco, no, ma per dire no, prego, prego, prego la trafina, allora per esempio per l'attore c'è il provino vai a fare il provino ti fai vedere puoi piacere non puoi piacere il famoso le faremo sapere è apposta per lo scrittore invece come funziona? c'è il provino qual è? io ho iniziato con i premi letterari sono un'ottima palestra mi hanno consentito di conoscere un po' varie comunità letterarie in Italia e anche all'estero molti riovinti e questo mi ha consentito anche di affinare la scrittura di confrontarmi con altri autori di entrare in contatto appunto con realtà differenti anche da quella parte europea e un po' alla volta poi ho cominciato a pubblicare i miei libri e associando la scrittura letteraria a quella giornalistica perché sono anche giornalista quindi ho fatto una serie di esperienze anche nel mondo del giornalismo ho lavorato anche per il quotidiano il mattino per diversi anni questo mi ha portato poi un po' alla volta a fare il grande salto quando poi sono entrato in contatto con grosse case editrici prima l'aggiunti e poi la fondatori successivamente una domanda Pino ho letto che negli anni 90 hai istituito a Palazzo San Giacomo la cassetta Antica Morra e per l'illegalità e vedere poi nel libro sei personaggi in cerca di dottore capire che poi non esiste una sola verità quali sono le verità di Napoli a questo punto fra bene e male dove ci possiamo collocare in questo momento? Napoli è la città è il nostro vanto Pino è il nostro vanto Pino lo vogliamo bene come se fossero di noi veramente lo vogliamo bene lui mi ha chiesto 50 euro ci vorrebbero tre quarti d'ora che risponderanno alla domanda anche perché abbiamo il momento Forza Napoli è proprio il tuo momento Pino allora quella è stata un'esperienza meravigliosa che ho fatto con il professore il compianto il professore Amato Lamberti che all'epoca ricoprì il ruolo di assessore alla normalità del comune di Napoli e istituì appunto anche la cassetta Antica Morra a proposito di Napoli Napoli come dicevo prima è tutto il contrario di tutto ha mille identità quando cerchiamo di classificarla di inquadrarla un attimo dopo ci smentisce nel bene e nel male ma questo è il suo vantaggio perché è una città creativa è una città che ti offre tante sorprese e tante possibilità quindi benvenga una situazione così e tra l'altro stiamo vivendo lo sto rivedendo da tempo uno dei periodi più belli della città sotto l'aspetto della creatività culturale artistica nel campo della musica dell'arte del cinema della televisione al di là dei picchi diciamo delle punte dell'iceberg ci sono veramente tanti talenti in città che stanno crescendo sempre di più e prima o poi cominceremo veramente a sentirne parlare e siamo felici qui allora il momento forza Napoli ecco abbiamo il momento forza Napoli adesso vedete davanti il cucciarillo che sfreccia però io che conosco bene Pino Imperatore so che qui sono so anch'io questo problema no ma non è un problema no no è un problema è un problema è un problema non gli appartiene molto allora è nato a Milano da genitore napoletano secondo voi per chi ti fa non è così non sono due indicazioni perché c'è la terza Pino Imperatore ti fa per posso dire dillo dillo lo devi dire ti faccio la canzoncina mentre tu parli lo sanno tutti lo sanno tutta la lingua di Fiorentina ma dove nasce questa passione per la Fiorentina Pino dove nasce anche perché poi è un colore che per il lavoro insomma che tu fai è proprio ecco sei una contraddittoria no 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 è Bordeaux è Bordeaux è Bordeaux allora anche Pino Imperatore è da buon napoletano è contraddittorio a questo punto dobbiamo dirlo ma io dico positivamente contraddittoria la Fiorentina è una squadra simpatica no è una squadra simpatica caro Pino hai rischiato perché i giuventini qua non entri no 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 a me è una squadra simpatica poi noi vogliamo a Chiesa parla tu della Valle dice a Napoli dovevano finire quindi voglio dire la Valle è uno pratico quindi però aspetta dove nasce la passione per la Fiorentina mi innamorai del gioco della Fiorentina negli anni in cui il capitano era Giancarlo Antognoni poi successivamente Baggio e poi Battistusa però vi devo dire una cosa quando io dico questa cosa l'altra è molto ormai conosciuta non mi credono i miei lettori perché dicono tu sei tra i pochi scrittori napoletani che hai saputo raccontare il tifo napoletano sia in benvenuti in casa esposito sia anche nello stesso all'asta in gennaio tre kamikaze c'è un capito è vero 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 la malattia c'è mai ma mi fa piacere che stia lottando per va beh dai ti vogliamo bene lo stesso ti vogliamo bene noi in genere in questo spazio parliamo del Napoli ma siccome sono restate no no tranquillamente ma ti dirò di più siccome noi abbiamo sempre un ospite profondo un rispetto profondissimo per i nostri ospiti noi ora non ne parleremo perché come sono due partite Napoli-Inter giocata sabato e Genova-Napoli giocata mercoledì non ne parleremo silenzio stampa ma facciamo no facciamo parlare le immagini guardatele e commentatele da soli forza Napoli forza Napoli non ne parleremo non ne parleremo non ne parleremo non ne parleremo